Doveva arrendersi, doveva gettare la spugna, ha fatto bene. Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta, sono qui su YouTube perché credo fortemente in ciò che diceva James Simon, ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza d'analisi, può arrivare a tutti. E affacciandosi fuori dalla stanza d'analisi incontra le Olimpiadi, incontra l'incontro di box tra i Mancalif e Angela Carini, la pugile italiana. Penso che è un episodio che avete visto tutti, pronti via, si inizia a boxare, no, tre pugni non hanno dati, uno, e, oh, 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 stop. Angela getta la spugna, si mette a piangere, non è giusto, e si ritira dall'incontro. Fa troppo male. Riguardo questo si è scatenato un inferno prima, durante e dopo. Un inferno di cui però non voglio parlare, ma bensì voglio proporvi tre riflessioni psicologiche, perché sono uno psicologo e voglio parlare di psicologia. Tre riflessioni psicologiche che partono proprio da questa vicenda. La prima riflessione è proprio, in ordine cronologico, sulla shitstorm pre-gara che ha subito i Mancalif, e anche subito dopo, fino a che non si è scoperto che, in teoria, è una donna, soltanto che ha un livello di testosterone più alto rispetto alla norma. Tra l'altro, su questo è bellissima la riflessione, io gioco a basket, ci sono persone di 2,30 m, persone di 1,70 m, hanno entrambi due modi di giocare diversi, probabilmente quello di 1,70 m rischia di perdere contro quello di 2,30 m, ma altre armi. Quindi devi allenare altre armi rispetto alla persona, quindi c'è una diversificazione. E anche nella box ci sono probabilmente stili di boxare diversi. Ma comunque, a parte questa riflessione, il livello di testosterone è regolamentato, tuttavia c'è stata una vera e propria shitstorm su Iman Calif, sul fatto che era un uomo, eccetera, eccetera. Questa shitstorm non ha fatto bene né al primo atleta, alla prima atleta, scusate. Che si fa quando uno psicologo fa un lapsus cringe? Vabbè, comunque, alle atlete non ha fatto bene sicuramente perché sono arrivate sul ring con un carico di tensione che faceva percepire il tutto in maniera totalmente disequilibrata, no? E capita anche noi nella vita. Quando ci carichiamo di giudizi, perché la shitstorm che cos'è? Un giudizio senza criterio, su qualcosa che io non ho capito. E quindi esprimo tutta la mia ombra rispetto a quel qualcosa che non ho capito, non mi interessa capire, ma mi ha toccato qualcosa nel profondo, e inizio a giudicare, per limitarlo, perché il giudizio è un limite. Quando arriva questa shitstorm, quando arrivano questi giudizi nella nostra vita, su un evento o su di noi, arriviamo poi a quell'evento che siamo così carichi che anche la cosa più normale la viviamo in modo esagerato. E questa è la prima riflessione. Quindi dobbiamo ben stare attenti quando ci sono delle shitstorm. Quando ci sono, probabilmente, è semplicemente, siamo andati a toccare un'ombra collettiva che sta facendo giudicare le persone senza capire un cazzo. Ed è al 99,9% così. Allo stesso modo deve accadere nella nostra vita. Quando ci accorgiamo che ho una shitstorm interiore di giudizi su qualcosa che sto facendo intorno a me, significa che non ci sto a capire un cazzo e che devo cercare di trovare il senso a quello che faccio o a quello che sto vivendo. La seconda riflessione che mi stimola a questo episodio, ovviamente, è quella sulla faziosità. Si sono create fazioni, la fazione Kelif, la fazione Carini, la fazione, insomma, quella equilibrista, equilibrata. L'essere faziosi è sempre un tifare. Diciamo che la faziosità è il lato negativo, il lato ombra del tifo, e il tifo invece è il lato bello dell'essere di parte. Solo che è costruttivo quando incita, quando incoraggia un atleta. Invece diventa distruttivo quando tende a distruggere l'individualità o di qualcuno. E questa è un po' la differenza tra tifo e faziosità. E noi tendiamo alla faziosità perché a volte, quando non capiamo qualcosa, quando ci pungola le nostre ombre interiori, e tutta la questione di genere è un'ombra gigante che abbiamo interiormente, sulla nostra mascolinità, femminilità, è una roba che non ancora gestiamo, siamo agli albori, forse fra cent'anni, duecent'anni ci capiremo qualcosa, ma per adesso non ci stiamo capendo un cazzo. E quando se ne parla, bam, parte la faziosità, parte il distruttivo, parte la shitstorm o il giudizio interiore o esteriore verso un'altra persona. E la terza e ultima riflessione è quella sulla resa. La credenza è resa. Cazzo, a me è piaciuto. Giudizio spassionato. Perché spesso ci chiediamo nella vita come lasciare andare le cose, come dimenticare un ex, come fuggire via da una situazione che ci sta pesando. E noi spesso rimaniamo perché pensiamo che dobbiamo resistere al dolore, perché pensiamo che dobbiamo lottare, che lottare sia più fico che arrendersi. E più rimaniamo là e più sarà un tritacarne. Più rimaniamo là e più in realtà ci faremo del male. E all'apparenza quella che noi consideriamo una resa, resa sembra proprio una parola negativa, è semplicemente un lasciare andare. Ok, stop. Questo non è il mio luogo. Questo non è la mia relazione. Questa non è la mia lotta. Questa non è una cosa che mi può nutrire. Perché noi dobbiamo scegliere le lotte in cui cercare di lottare e quelle in cui non dobbiamo farlo. Quelle che ci possono nutrire, le combattiamo. Quelle che non ci possono nutrire, non le combattiamo. E per non combatterle dobbiamo attraversare la resa, che è all'inizio qualcosa di spaventoso per noi, qualcosa di complicato, qualcosa che quasi ci umilia, ci dà la sensazione di umiliazione. Io mi sono arreso, sono un debole. Perché abbiamo tutti i giudizi negativi su queste cose. Invece io mi sono arreso, che figo, sono un debole. Che figo, cazzo. Ho lasciato andare una situazione di merda. Ho lasciato andare una situazione che mi avrebbe fatto solo male. Ho lasciato andare una situazione che non mi nutriva e non poteva nutrirmi, che non era nelle mie corde. Ma che ce l'ho a fare? E se imparassimo a vedere la resa come qualcosa di positivo, ci sarebbero meno infogni da relazione, meno problemi nelle relazioni, meno problemi nella vita. Quanto è bello arrendersi. A volte lasciare andare. E quindi quando mi chiedete come faccio a lasciare andare, arrenditi. Giammai. Cos'è? Alta psicologia. Comunque, queste erano le tre riflessioni che volevo fare su questo episodio tra Iman e Angela. Riflessioni, ripeto, psicologiche. Perché quando noi guardiamo un episodio spesso ci focalizziamo sul mainstream, quello che accade in mainstream. Ma è bello invece interessante vedere ciò che c'è sotto, ciò che ci può mostrare di costruttivo. E secondo me questi tre punti sono molto costruttivi da un punto di vista interiore. Se ti è piaciuto il video, se ti è venuta voglia di boxare, mettete un like, iscrivetevi al canale, condividete il video con il vostro avversario, così col video gli dite proprio boxeremo. E accendete il campanino, la notifica per un'altra parte dei prossimi video. Ciao! Ho fatto il ciao col pollice. E' arrivato a conclusione il mio podcast, è uscita l'ultima puntata sulla paranoia, ascoltatelo, ascoltatelo tutto. Ci vediamo al prossimo video.